Allora, mi ha spinto a partecipare la mia passione per il lavoro, che già da quando ero piccola con mia nonna ho iniziato. Prima ho fatto tre anni di pasticceria, dopodiché ho deciso di intraprendere l'epoca e da lì mi sono innamorata di questo lavoro. Hooppsich, ha detto che ci sono iniziato, mi ha spazzato, mi ha spazzato, mi ha spazzato e mi ha spazzato, mi ha spazzato, mi ha spazzato, mi ha spazzato, e mi ha spazzato. Ho spazzato, ho detto che mi ha spazzato, mi ha spazzato, mi ha spazzato. D'abord, è stata una occasione di poter rappresentare la Suisse a livello mondiale, e per me è un honore di essere il solo romanzo che sia nel concours. Amo più che altro il creare, il creare cose nuove e sempre, diciamo, migliorarmi perfezionando tutto quello che faccio e sempre imparando di più, perché con questo lavoro impari sempre di più, non c'è mai un attimo dove si sta fermi. Per me è solo una passione, è quello che ho sempre chiesto di fare e non c'è nulla. di più. Allora all'inizio non ci credevo, sono rimasta, in effetti sono rimasta molto sorpresa e mi sento bene, sono felice, mi piace, sono contenta di aver raggiunto questo risultato e adesso vedremo come andrà oggi, spero bene. Allora all'inizio è solo un honore e poi è solo un eccezionale, non c'è un indescriptivo. Allora all'inizio non ci credevo. Allora all'inizio è solo un po' di più, per favore.